La mia postazione da gaming Semplice e efficace Che fatica aspetta Un po' rifatta Siete pronti? No Si vede un po' male Perché è giorno Ah perché è giorno Di notte si vede meglio Eh beh deve essere amico di quello di prima Con i led Al buio si vede benissimo Siamo noi che siamo fatti il contrario Ma se avrò voglia di editare questo video Metterò una foto della mia postazione Un po' di tempo fa Allora iniziamo subito dall'alto Dall'alto adesso mi ammazzerò Perché dovrò salire sopra la mia sedia Con le ruote Dall'alto si inizia con una mensole In cui c'è la straccia led Una arrotolata sulla mensole Appunto Alexa Che comprende dei mini cassettini In cui io posso metterti le cose Ci metto le chiavette usb Di sopra Di molte altre cose Molte altre cose Chissà quanta roba c'è sta lì dentro Lì un po' di cosetta a caso Qua Ho la scatoletta delle mie cuffie Mi trovo delle mie cuffie E Lì il Mi viene il 9 Ma la scatoletta con i ferretti E del Joe Mouse Con tutti gli infinite warfare S4 E un controller Minecraft Poi se iniziamo a scendere W-w-w-w-w-w-w Oh Niente Finito Qua C'è La mia tasca Un microfono È sdraiato Sdraiato Quella Sembra la solita C'era da quasi due anni È perfetto Un po' raffreddato Potevi farlo un po' dopo Per nostro video Trust Ha staccato un tasto La sorella Abbiamo il monitor Che è dell'asus 85 hertz è ottimo però su alcuni giochi da prestation 5 vi dico che praticamente su tutti non fanno raggiunge i 120 fps perché vabbè a quanto pare da 5 fa abbastanza schifo è un monitor normale ultimamente sta avendo un po di problemi ma pazienza e poi abbiamo qua le mie cussie ovvero le hyper x della versione limited edition playstation per dirlo raga è venuto il fiatone di solito sta facendo fatica a parlare incredibile poi abbiamo di nuovo non è possibile basta li abbiamo dopo quest'inizio c'era un'altra impennata di mouse di maori della ricerca a me sembra sporchissimo questo davanzale qua poi il davanzale verso l'interno ma scusate ma lui vive dentro fuori la casa è una stata fatta da fuori c'è il davanzale mi sembra fatto al contrario ragazzi dovrebbe stare i fuori questo qua non dentro la ciabatta attaccata con lo scotch al davanzale vive sul balcone abbiamo pure il dual sense mi sono dimenticato di vivere il mio logica 202 euro che non so perché fa la lucina qua però maori perché non la fa e configurano che l'hai costruito piacciono i dpi sono ritocchi quelli e questo qua non l'ho mai capito non lo capirò mai è il per il tasso di precisione vedete perché li fanno i manuali per leggere e capire della trust il wifi vabbè il wifi lui è il wifi abbiamo il petto forte ovvero le mie ciabatte i piedi ovviamente è la playstation 5 comprata sabato vi giuro laga è la cosa più bella ecco perché ha fatto subito il video capito la polvere di vent'anni prima comunque ciao ciao mi sono mai incavolato con tutte le scompite che ho fatto vi giuro è una figata se dovete decidere su comprarvi una play 4 pro la 5 così la play 5 vabbè grazie ma non è così che vai grazie certo ma lasciamo stare l'ambientazione sono dall'entrata di casa mia ma vedi l'ultima cosa che mi ha divertito per cosa la mia sedia da gaming qui c'era un cuscinetto ma me l'ha rubato mio fratello ma tanta me un po' di passino me lo dava trova la besta famiglia e niente raga questa quale mi ha postato pure capire due vive guarda spero un giorno di farla con una scrivania quante cose ci sono attaccate via sinistra con magari uno due monitor l'impianto fotovolta ma almeno posso rendere i video come fai ad aprire quella finestra scusami come la apri come fai a tirartela secondo me da fuori è murato non c'è niente è una finestra finita può essere poi mi piacerebbe pure avere qua un'illeggito ma facciamo che per qualche anno mi basta la play 5 allora spero che il video vi sia piaciuto spero di fare un upgrade di nuovo alla postazione e abusi edilizia qua e sapete qual è la cosa che mi piace perché io sono oh madonna sono passato da giocare seduto sul letto con con il tappetino del mouse sotto al sedere cioè come? ad avere una mensura perché? i manga e gli occhi una scrivania vabbè un po' ma quanti cavi attaccati con lo scotch oh mio dio io avrei una paura fottuta a sapere che tipo mio figlio ci ha attaccato a sta roba qua si ma si fanno notare che c'è attraverso il mouse nel culo ha detto che c'è il tappetino lui era saluto sopra il tappetino del mouse a cosa serviva in quel caso? non lo so chissà il mouse come lo utilizzava però con un monitor bellissimo la tassiera fissima un mouse fississimo è detto che faceva cagare delle cuffie che per me sono le migliori in circolazione qua purtroppo ho perso il tappetto e poi la miglior console che è in circolazione per adesso vabbè raga spero che il video vi sia piaciuto se cosa è stato lasciate like iscriviti a me ciao cap cut emozionante mauri devo dire chissà la lore del tappetino del mouse sotto il culo cioè sarei curioso di capire non ci possono vedere i video precedenti su sta cosa qui? non lo so sai non ne ho idea no l'ho perso allora playlist solo quelle prossime nooo no mauri vuoi vedere il suo canale dai non è possibile che non ci sia un modo per vederle vedi a non usare un canale youtube ora non ce l'hai nemmeno nella cronologia ce l'hai contro il v aspetta si ce l'hai contro il v meno male ah ok se no ce l'ho in cronologia io in teoria va bene allora rank the platino fortnite youtube anche io youtube anche io tanjiro di demon slayer ma non penso che abbia qualcosa di interessante non mi sembrava uno praticamente interessante nico me la pagherai va bene mettilo nico me la pagherai va bene non so cosa sia diciamo subito così cerco di farlo il più breve possibile è successo di nuovo mi hanno bannato no stavolta non per una settimana non due settimane ma fino al 21 luglio per un mese perché perché ovviamente stai pettendo vabbè ci eravamo tranquilli io ricky mollis knok e jovi 72 già l'ho bannato e dal suo primo account stavo giocando dal suo secondo account ma cosa cosa stava giocando fortnite perché ti bannano su fortnite vediamo cosa ha fatto partì noi diciamo ok diciamo un po' parliamo un po' e lui invita nel gruppo che era privato era solamente di me firelight knight knok ricky mollis e jovi 72 in 5 eravamo lì tranquilli ha invitato 40 persone come 40 persone e tutti i bambini drogati di fortnite di quello schifo certo allora cosa fa allora ma allora lui a cosa stava giocando ah dici che non è fortnite dici 40 bambini drogati di fortnite di quello schifo dopo è scontato che lui non piaccia fortnite no è vero sembra io e jovi per ridere scriviamo 5 volte più o meno fortnite e la parolacchia per cioè cacca in modo volgare fortnite cacca in modo volgare dopo un'ora mezz'ora mentre stavo facendo una live con knok knok un saluto al grande tutto dico cosa è successo poi mi arrivano notifica non sei più nel tuo account playstation network per aver violato le norme della community all'account psn direttamente non è possibile dai di nuovo vado a vedere ho capito rick per aver scritto fortnite merda eh no sono molto controllati anche perché sono bambini viene controllato eh se fai i parti playstation si e puoi scrivere o parlare anche nella chat tipo di gruppo come studiscono insomma avrà scritto fortnite merda cinque volte appunto e visto che c'è il parental control a mille presterebbe qui su cose del playstation ok l'hanno bannato semplicemente cioè se tu scrivi fortnite ma per quanto tempo bannato ah per un mese ve l'ha detto cioè tu vieni bannato per un mese per scrivere fortnite merda io so che ti controllano è molto controllata sia la chat vocale che quella di testo quella vocale non sono sicuro che la controllino effettivamente ma se i segnali controllano cioè quindi per un mese lui non può giocare online come funziona è in tira non puoi neanche entrare online è bandito dal psn per un mese per aver detto fortnite merda incredibile sta cosa meno male che io non esisto lì so lo usano solo loro penso sta roba qui quindi non so effettivamente come funzioni però so che è molto stretto come si chiama la e-mail oppure ho scritto alla playstation al supporto della playstation che ho scritto 5 messaggi un giorno playstation ho scritto un amico di nico che tra il party diceva un botto di parolacce ne hanno bannato per un mese e adesso nico perché è colpa tua che hai invitato tutte queste persone dico merda del party no è colpa tua la pagherai minacce non dico altro la pagherai pure cara cara mamma mia maori tragedia è incazzato la pagherai pure cara com'è che si chiama il canale si chiama sono sempre in control v aspetta verdiek 07 verdiek verdiek 07 ho 2000 iscritti non so come ma c'ha 2000 iscritti sono curioso la vera faccia è da supreme la mia teoria sul big ladro della big vanilla ok sto un attimo guardando i video di come la pagherai bellissimo al ricerca del cuoio costruisco la mia casa miencraft miencraft vanilla il mio nuovo arco il mio nuovo arco il mio nuovo arco ho pianto per l'evento vado in aspirazione minecraft chi cerca trova minecraft vanilla i